parliamo oggi tumore del polmone è stato infatti pubblicato di recente su un'importante rivista scientifica uno studio tutto italiano che conferma appieno l'efficacia nella pratica clinica della terapia di mantenimento con un farmaco immunoterapico che si chiama durvalumab dopo la chemiradioterapia nei pazienti che hanno un tumore del polmone non a piccole cellule in stadio 3 non rese capide noi ce la facciamo raccontare dall'autore principale di questo studio il professor andrea filippi professore ci spiega innanzitutto chi sono che caratteristiche hanno i pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in stadio 3 non resecabile si sono i pazienti che hanno il tipo di tumore del polmone più frequente cioè quello non a piccole cellule non microcitoma che coinvolge la maggior parte di pazienti sfumatori ma anche non sfumatori i quali si collocano in una fase di malattia che è intermedia tra la malattia chirurgica cioè la malattia in stadio 1 2 quella che chiamiamo in stadio iniziale e la malattia in stadio quarto che è quella cosiddetta metastatica questi pazienti con malattia in stadio terzo sono molto eterogenei e coprono più o meno il 25 per cento delle diagnosi di tutti i pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule. Qual è attualmente il trattamento standard per questo gruppo di pazienti? Ma questi pazienti si dividono in due gruppi fondamentalmente sempre che siano nelle condizioni di essere trattati perché poi molti di questi pazienti possono anche essere anziani o debilitati e quindi non poter fare dei trattamenti standard. Se parliamo dei pazienti che possono essere trattati si dividono in due gruppi. Il primo è costituito dei pazienti che sono ancora potenzialmente chirurgici ricapiamo resecabili e poi la grossa maggioranza invece è costituita da un gruppo che si chiama stadio terzo non resecabile. Questo non vuol dire che tecnicamente non sia fattibile la chirurgia sul torace per rimuovere il tumore e i linfonodi. Il problema è che la malattia è stesa e il chirurgo non riesce a raggiungere quella che chiamiamo radicalità oncologica cioè non riesce a operare con le immagini di sicurezza sicuri in modo tale da poter guarire il paziente. Questi pazienti che chiamiamo non resecabili per circa 30 anni 30 40 anni li abbiamo trattati con la sola chemioterapia e unita alla radio e al con la radioterapia scusate con la sola combinazione di chemioterapia tradizionale a radioterapia toracica che si poteva fare o insieme cosiddetta concomitante cioè le infusioni di chemioterapia vengono durante il trattamento radioterapico o in sequenziale ovvero le infusioni vengono fatte prima e la radioterapia viene fatta dopo. Questo trattamento costa due tre mesi se concomitante quattro quattro mesi e mezzo cinque se sequenziale ma oggi quello che diciamo è stata la grande novità oggi degli ultimi tre quattro anni è che finito questo trattamento se il paziente è almeno in risposta o anche solo in stabilità di malattia basta che non sia andato in progressione e sono al 90 per cento può eseguire quello che chiamiamo immunoterapia di mantenimento cioè 12 mesi di un farmaco che si chiama Durvalum ma che è un inibitore di un checkpoint immunitario a un anti PDL1 il quale ha si è dimostrato avere un'azione molto benefica su questi pazienti perché aumenta sia la loro probabilità di vivere senza recidiva cioè di non recidivare o recidivare meno sia in generale la cosiddetta sopravvivenza globale cioè aumenta radicalmente la loro chance di cura perché abbiamo i dati ormai a quattro cinque anni con i pazienti guariti e questo messaggio è estremamente importante l'avevamo questi pazienti ma eravamo nell'ordine cinque dieci per cento ora siamo nell'ordine del trenta trenta cinque per cento abbiamo triplicato forse quasi quadruplicato questa sopravvivenza questo è un dato estremamente positivo professore lei l'autore principale di uno studio real life tutto italiano in cui si è valutato proprio l'utilizzo dell'immunoterapia con Durvalumab dopo la chemiradioterapia nei pazienti con tumore del pulmone non a piccole cellule in stadio 3 non reseccabile nella pratica clinica ci spiega in sintesi che cosa consiste questo studio e che risultati avete ottenuto sì noi fondamentalmente abbiamo raccolto in un network di centri italiani di oncologia medica di radioterapia oncologica che si occupano soprattutto di tumore del polmone abbiamo raccolto una casistica di pazienti che avessero fatto Durvalumab secondo le indicazioni del del lema dell'aifa dopo la registrazione del farmaco quindi quando era già in rimborsabilità e abbiamo fatto una raccolta retrospettiva cosiddetta osservazionale real life abbiamo raccolto tutti i pazienti che i centri hanno ritenuto di inserire all'interno di questo database e non soltanto quelli che aveva ricevuto Durvalumab ma in realtà una tutti i pazienti in stadio terzo non reseccabile che i centri avevano in quel periodo di tempo dello studio avevano visto e trattato con chemioradioterapia e eh siamo stati in grado di descrivere da una parte le ragioni per cui il Durvalumab non era stato iniziato anche se era stato inizialmente programmato che è un dato molto molto nuovo e molto interessante che ti descrive davvero bene qual è lo scenario reale in Italia di quanto i quanti pazienti che sarebbero candidati all'immunoterapia di mantenimento poi davvero accedono a questo trattamento e dall'altra in un accordo di centocinquantacinque pazienti che avevano invece ricevuto almeno una dose del farmaco siamo andati a riportare alcune delle caratteristiche cliniche principali e poi dei dati di eh progression free survival e di overall survival cercando di capire se questi dati potessero essere informativi e collocati in prospettiva rispetto anche a quello che erano i dati del dello studio registrativo di fase tre eh del Durvalumab eh dopo che è una radioterapia concomitante. E dunque come si rapportano i risultati del vostro studio con quelli dello studio Pacific che è il trial che ha portato alla registrazione di Durvalumab in questo setting e anche con quelli di un altro studio real life su Durvalumab lo studio Pacific R che è stato presentato di recente al congresso ESMO 2021 cioè il congresso europeo di oncologia. Ma direi che si collocano molto bene nel senso che da una parte eh noi abbiamo raccolto una casistica che è un pochino differente da quella dello studio Pacific soprattutto per due motivi. Uno perché ci sono molti pazienti che hanno ricevuto la chemioradioterapia sequenziale che nello studio Pacific non era consentita mentre invece nelle indicazioni Durvalumab registrata in Europa è consentita e dall'altra eh è una popolazione che quasi tutta PDL1 positiva perché la registrazione Durvalumab in Europa è legata alla presenza o meno di questo marker di espressione eh delle cellule tumorali che si chiama appunto PDL1 positività almeno superiore all'un per cento. Questi due fattori sono i due fattori nuovi di questo studio per cui io se dovessi prendere diciamo le caratteristiche principali sono che da una parte lo studio riproduce bene eh l'età media eh la frequenza media di istologia e la tipologia di stadiazione e ha dei risultati di sopravvivenza molto simili a quelli di se non forse eh su forse leggermente superiori e questo forse è dovuto al fatto di aver raccolto i pazienti PDL1 positivi comunque molto simili a quelli di Pacific e ehm e simili anche quelli in linea ad altri studi osservazionali condotti da altri gruppi sia americani che europei di tipo Real Life. Dall'altra parte certamente questo studio porta dei dati invece innovativi sulla sulla chemoradioterapia sequenziale perché l'unico altro studio che ha i dati sulla chemoradioterapia sequenziale per l'appunto quello a cui faccio riferimento lei cioè Pacific R Real Life eh Pacific che è uno studio che raccoglie circa milla e quattrocento casi entrati nell'expanded access program di AstraZeneca per il Durvalmob quindi trattati precedentemente a quando noi abbiamo cominciato la raccolta dati per il nostro studio Real Life e questi pazienti sono al novanta per cento trattati con chemoradioconcomitante quindi eh sicuramente non è così e sono anche PDL1 negativi quindi ecco i due studi ci sono delle differenze tra lo studio italiano tra lo studio Pacific e tra lo studio Pacific Real Life però alcuni ci sono anche alcune similitudini cioè da una parte i dati di sopravvivenza molto buoni dall'altra appunto le caratteristiche dei pazienti e dei tumori trattati e poi se devo dire una cosa interessante che nello studio Real Life Pacific R eh appunto su un campione molto ampio di pazienti eh la quota di per esempio cioè l'intervallo di tempo per esempio in giorni tra la fine della chemoradi e la prima dose di Durva è esattamente uguale a quella del studio italiano cinquantacinque giorni eh ci sono alcune caratteristiche anche estremamente simili anche nello studio Pacific R la progression free survival eh è risultata leggermente migliore rispetto a quella di Pacific forse questo è anche per una diciamo selezione positiva che noi poi nella clinica facciamo di di questi pazienti è ancora un dato ancora in parte da capire eh abbiamo dei dati di ehm un po' peggiori per chi ha delle istologie squamose e anche questo era era è uscito in Pacifica Real Life quindi insomma sicuramente io credo che lo studio italiano aggiunga qualcosa aggiunga qualcosa soprattutto sui dati di chemoradi sequenziale aggiunga qualcosa anche sulle ragioni per cui non abbiamo iniziato Durva è una cosa che negli altri studi non era mai stata raccolta e dall'altra parte quindi integri le conoscenze su questo argomento non sono tre studi paralleli uguali sono studi diversi che però vanno messi in contesto uno con l'altro e aggiungono tutti del come si dice delle tessere al mosaico e dunque professore in sintesi in due battute quali sono i messaggi chiave che emergono dal vostro studio? I messaggi chiave sono che eh questo anticorpo plonoconale Durvalumab è fattibile nella pratica clinica in Italia secondo l'indicazione di EMA di AIFA e mh è stato prescritto secondo le indicazioni e la maggior parte dei pazienti sono riusciti ad accedere al farmaco come da programma cioè facendosi la chemoradioterapia e poi avendo un attac di valutazione se in risposta accedendo al mantenimento e la riproducibilità quindi della dell'indicazione e e il numero di dosi somministrate la media di dosi le ragioni per l'interruzione legate alla tossicità sono assolutamente simili a quelle degli altri studi appunto descrittivi eh real life eh e in parte a Pacifica questo è molto positivo perché vuol dire che in mani italiane e degli di un network certamente selezionando perché sono dei centri che fanno molto molto tumore del polmone però eh sono insomma il dato è molto confortante perché vuol dire appunto che è fattibile nella pratica clinica un farmaco gestibile poco tossico e in grado di dare sicuramente del eh dei messaggi di di efficacia. Come dato un po' più nuovo abbiamo anche appunto il dato di efficacia sulla chemoradioterapia sequenziale eh che anche se eh se uno va a leggere nelle pieghe nello studio ha una mediana di progression free survival leggermente diversa ma bisogna tener conto che l'overall survival è molto buono e soprattutto che i tempi di di osservazione sono leggermente diversi ma non voglio entrare troppo nel dettaglio però è un dato importante e in più abbiamo questo dato sulle ragioni per non iniziare che sono fondamentalmente vabbè la progressione in parte ma questo lo sapevamo infezioni o altre cause tra cui c'è stato anche il covid diciannove che non è stato secondario in questi in questo periodo di raccolta purtroppo perché ha coperto tre anni di cui eh quasi due eh con in cui covid era in fase pandemica e dall'altra parte abbiamo questo dato di su un'età media un po' più alta di pazienti anziani che tipica dello scenario italiano e pazienti che eh erano in stadio anche più avanzato di malattia. Quindi i dati di sopravvivenza sono comunque dei dati molto molto confortanti per noi. Aggiungo solo come dato giusto che eh il follow up è ancora corto cioè noi non abbiamo osservato questi pazienti per molto tempo quindi quelli che noi stiamo dando sono i dati cosiddetti short term eh a un anno un anno e mezzo noi abbiamo quattordici mesi di follow up mediano ovviamente è nostra intenzione cercare di prolungare l'osservazione per poi andare a riportare tra tra un po' una casistica che abbia un cioè la stessa corte osservata per più tempo andremo a vedere probabilmente più recidive naturalmente.